Come si può fare innamorare un uomo iperlogico? Intanto deve tenere presente questo, che gli uomini iperlogici, le persone iperlogiche in generale, hanno difficoltà ad innamorarsi, perché hanno una parte logica che per delle motivazioni, che adesso non vado qui a esplorare, hanno una parte logica che si è strutturata fin da piccoli in modo molto potente, molto radicato, e quindi sono persone che hanno proprio difficoltà a lasciarsi andare, a lasciarsi coinvolgere emotivamente, perché ovviamente la parte logica è quella nostra parte che cerca di difendersi dalle emozioni. Non è detto che le persone iperlogiche non si innamorino, si innamorano anche loro, ma è come se avessero una barriera, una diga molto alta al fiume dell'amore. Immaginate l'amore come un fiume e immaginate la diga, una diga molto alta, che si oppone a lasciar passare, a lasciar scorrere il fiume dell'amore. Bisogna tenere presente questo, che quindi bisogna dare molte più stimolazioni emotive, poi per coinvolgere una persona iperlogica, e sarà poi alla fine la persona iperlogica quella che, se coinvolta, poi perderà completamente la testa. Un po' come la diga del Vaillant, che accumula, accumula, accumula acqua, poi quando trascima fa 3.000 morti, diciamo. È la persona iperlogica che poi può fare le più grandi pazzie. Però è difficile che riesca questo, perché le strutture, la diga, è molto alta. Quindi, come devi far innamorare una persona iperlogica? Beh, intanto devi sapere questo, che poi dovrai somministrare forti tensioni emozionali, ma inizialmente dovrai acquitare la sua parte logica. Quindi, tieni presente che la tua parte logica, la sua parte logica, ti farà uno screening. E quindi, se risulterà che tu per qualche motivo non vai bene, subito si metterà sulle difensive. E quali sono le cose che possono non andare bene in una donna? Beh, sono diverse, di fatto. Questo non vuol dire che poi l'uomo iperlogico, proprio perché iperlogico, non venga a letto con te, ma non si lascerà andare, si tratterà. Beh, una è sicuramente la differenza d'età. La grande differenza d'età, può essere anche meno, ma è molto più probabile in più della donna rispetto all'uomo. Quindi, ripeto, non è che non ti frequenta, che non viene a letto con te, però non si lascia andare perché c'è un motivo logico-razionale per non lasciarsi andare. Poi è ovvio che dipende molto anche dall'età di questa persona, dalla sua situazione, eccetera. Però, in linea di principio, da un punto di vista logico-razionale, una donna più vecchia potrebbe non andare bene. Poi, altre cose, è lo status sociale. Una grossa differenza di status sociale, anche qui, in più o in meno, potrebbe anche non andare bene. E una differenza di valori, ad esempio, cioè, gli valori sono ciò che è importante per noi. Per una persona potrebbe essere la famiglia, per un'altra la voglia di libertà, per un'altra ancora qualcos'altro. Quindi, le persone iperlogiche, non so se hai notato, non gli vanno bene le differenze. Perché le persone iperlogiche vanno alla ricerca delle uguaglianze, da un punto di vista logico-razionale, ovviamente. E questo è una cosa importante, perché, da un punto di vista logico-razionale, quindi età, status sociale, livello culturale, eccetera, devi cercare di produrre delle somiglianze. E poi devi dargli delle motivazioni logico-razionali a iniziare a frequentarti, a uscire con te. Quindi sempre un motivo, un motivo che può essere di qualunque genere, cioè, degli inviti, che ne so, per dire, io stasera vado a quello spettacolo teatrale perché mi hanno dato due biglietti, ho un biglietto che mi avanza se vuoi venire anche te, altrimenti lo do a una mia amica, per fare un esempio. Ok? Quindi devi partire dalla parte logico-razionale, quindi dare degli stimoli logico-razionali in modo tale che la persona in qualche modo ti possa frequentare. Devi cercare di produrre uguaglianze. Produrre uguaglianze qua dipende un po' dalla tua situazione. Certo che se tu fai la ballerina di lap dance e questo fa, che ne so, l'impiegato del catastro, come dire, almeno da un punto di vista lavorativo, è difficile produrre, o di vita sociale, è difficile produrre uguaglianze. Però, diciamo, allora devi tenere nascosta la parte che è molto diversa, perché è ovvio che se l'impiegato del catastro, iperlogico, per dire scopre che tu fai la ballerina di lap dance, sa che tu fai la ballerina di lap dance, se non è già innamorato prima, difficilmente accetterà questa cosa, inizierà a mettere le barriere, ma cosa penserà mia madre, cosa penseranno i miei amici, una ballerina di lap dance, farà subito un'equazione particolare. E questo è per fare un esempio. Quindi le parti molto contrastanti è meglio tenerle nascoste, insomma. Anche sull'età, se la differenza è in più, meglio che non fai sapere se puoi, ovvio che se la cosa poi è evidente, i casi sono infiniti. L'importante è che poi, una volta quando inizi a somministrare emozioni, andando a capire il suo fabbisogno emotivo, ma questo è in un secondo tempo, allora poi puoi accettare di tutto, ma inizialmente bisogna fare molta attenzione. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ti invito a seguirmi sul blog http www.seduzionesef.com. Ciao!